ancora ben trovati sul canale 3 toscana post tg abbiamo il piacere di avere per la prima volta tra l'altro quando i nostri nuovi studi il senatore silvio franceschelli benvenuto senatore buonasera grazie per l'ospitalità una prima volta veramente un piacere in questi studi e sono molto particolari e veramente affascinanti per la città di siena allora lei è all'interno della nona commissione tra l'altro che si occupa dei temi nevralgici per quanto riguarda l'economia del paese industria commercio turismo agricoltura attività legata all'artigianato quindi le attività produttive sostanzialmente quali sono in questo momento senatore dossier più importanti su cui state lavorando si è una commissione molto corposa figlia anche della riorganizzazione c'è stata al senato in cui sono siamo passati dall'avere 14 commissioni a 10 in ragione della riorganizzazione dei numeri degli eletti e riguarda un po tutte le attività produttive ci confrontiamo in questo momento con il decreto il va un decreto estremamente articolato e credo andrà in discussione in assemblea tra la giornata di oggi e la giornata di mercoledì abbiamo la riforma del codice della proprietà industriale per il quale è molto importante anche un po ridisegnare quello che sono i diritti attinenti a marchi brevetti che coinvolgono sia territori e gli ambiti di la ricerca ma anche l'industria l'agricoltura con i consorsi di tutela abbiamo tutto il tema dello sviluppo dei bacini idrici un tema quello della siccità che è estremamente sentito anche nei nostri territori e che ho portato all'attenzione del ministro Lollobrigida con un'interrogazione che si è tenuta in senato alcune settimane fa e su cui ho avuto delle risposte che devo dire incoraggianti rispetto a questo tema di cui ormai non possiamo più sottacere perché le nostre produzioni di qualità dipendono molto dal fabbisogno idrico pertanto dobbiamo darle una soluzione dobbiamo intervenirci senza tanta demagogia ma in modo molto pragmatica nel rispetto dell'ambiente ma anche della risorsa idrica dell'acqua che è un bene prezioso. Le chiederia adesso un tema che ovviamente è nevralgico da sempre per il nostro territorio che è quello delle infrastrutture qual è un po il polso della situazione cosa possiamo legittimamente sperare? Ma allora io credo che in questi anni abbiamo iniziato un lavoro molto importante sia con l'amministrazione provinciale sia con i sindaci del territorio perché devo dire che c'è stata una sinergia tra tutte le amministrazioni locali a prescindere dal colore politico di governo della singola amministrazione su questo tema che è il tema delle infrastrutture. Chiaro noi soffriamo nella città di Siena nella nostra provincia dell'esigenza ormai imprescindibile di una programmazione che vada a compimento perché in parte molto è stato fatto sul tema della ferrovia, il raddoppio tra Siena e Firenze, non possiamo pensare che Siena resti l'ultimo capoluogo di regione senza avere il doppio binario per cui oltre al collegamento con Poggibonzio e Siena questo è un intervento inderogabile che deve essere programmato e poi attuato. Del pari penso alla Siena chiusi al tema della stazione dell'alta velocità ma non meno il collegamento con Grosseto perché comunque noi il tema della ferrovia è un tema che in questo momento ci pone l'obbligo perché ci riporrebbe al centro anche di un sistema aviario. Di pari passo l'amministrazione provinciale con il suo presidente David Bussali stanno portando avanti il lavoro di concertazione con ANAS per quanto riguarda il raddoppio della Siena-Grosseto, la E78 in cui tutti i lotti sono andati in appalto e in progettazione il lotto zero. C'è il tema della Monteroni-Monsindoli che è stato finanziato per 95 milioni di euro lo scorso agosto è che ANAS sta programmando, per cui noi dobbiamo monitorare ciò che è già programmato ma dobbiamo lavorare perché quello che non è stato programmato venga fatto e venga posto all'attenzione della programmazione ministeriale. Su questo io sono convinto che potrà essere una battaglia da parte di tutti perché non è una battaglia di orientamento politico, non fa bisogno di nostre imprese, di nostre famiglie, di nostri cittadini, di nostri studenti, di tutti coloro che vorranno venire a Siena anche per il turismo, se noi non ammoderniamo l'infrastruttura rischiamo di veramente essere meno attrattivi e di pagare questo scotto nel breve e lungo periodo. Collegato al tema del turismo ovviamente non solo, c'è quello legato al mondo della cultura. Su questo a suo avviso quali sono i passi importanti da fare? Io credo che noi in provincia di Siena con i nostri quattro siti UNESCO, con i grandi patrimonio culturale della città, che è un polo attrattivo, estremamente importante, ma con tante peculiarità della nostra provincia. Non faccio indicazioni specifiche per non far torto a nessuno, ma ogni comune della nostra provincia ha un qualcosa di unico ed irripetibile. Basti pensare all'ultima scoperta di San Casciano in cui bisogna fare un plauso all'amministrazione comunale e anche alla sovrintendenza, al gruppo degli archeologi capeggiato da Jacopo Tabolli ed altri, che con determinazione e anche con scarsità di risorse hanno creduto in questa intuizione dell'amministrazione e che oggi ha portato a far sì che in un luogo impensato, quantomeno per noi comuni cittadini, potesse esserci una scoperta di quel valore. Cosa significa? Significa una terra ricchissima, ma questa ricchezza la dobbiamo tradurre in un modello e un sistema culturale che fa sì che la città di Siena e la provincia siano sinergici. Una cosa che in questi ultimi anni, devo dire, è mancata e che su cui bisogna necessariamente lavorare. Ecco, perché come sì, come sulle infrastrutture, questi sono temi che non hanno una connotazione politica, questi sono temi che hanno l'esigenza di essere valorizzati anche in un'ottica di migliorare quella che è la permanenza dei nostri turisti. Noi abbiamo bisogno di un turismo che non è un turismo mordi e fuggi, ma che è un turismo dedicato, un turismo consapevole, un turismo lento, per cui anche tutto il modello dei sentieri del turismo lento, la sentieristica, la Due Mari, tutto la francigena, chi ne ha, chi più ne ha più ne metta. Pensiamo al tema delle grandi manifestazioni come l'eroica o le varie gran fondo, le strade bianche. Noi abbiamo un insieme di cose uniche, forse ne abbiamo anche troppe e ci hanno fatto credere in questi anni che potessimo lavorare singolarmente. Questo è un errore, perché se ne mettiamo a sistema facciamo sì che la permanenza media sulla nostra città, sulla nostra provincia, possa salire di quel mezza giornata a un giorno che significherebbe migliore qualità, meno flussi, meno problematiche legate anche ai transiti. Siano entrate in uscita, ma un miglioramento e avrebbe necessari effetti positivi sul commercio e sul turismo. Cambiando argomento, il tema del biotecnopolo, senatore, a che punto siamo in questo importante ma complesso, ITER. Allora, ecco, un tema estremamente delicato questo. Allora, io credo che l'intuizione avuta a suo tempo dalle istituzioni locali, regioni in primis, provincia, comune, fondazione, dell'insieme toscana e città su TLS sia stata una grandissima intuizione. Credo che questa si sia rafforzata con il governo Draghi che ha deciso di investire in questo settore. Ecco, ora noi però dobbiamo fare il passo per far sì che questo non sia un mero incubatore ma sia un lavoro di distretto. Io nelle scorse settimane ho contato anche alcuni imprenditori del mondo delle biotecnologie, i quali mi dicono che c'è un substrato sia in termini di risorse umane ma anche di capacità imprenditoriale, di capacità tecnico-scientifica su questo territorio che è difficile riprodurre in altri ambiti. Allora, dobbiamo metterla anche qui a sistema. Deve essere sempre più distretto e meno operatività singola. Che parte dalla formazione, noi in provincia, so che il Presidente Bussagli ha concluso con la regione toscana la stipula dell'accordo di programma per la realizzazione del Mondagnese nella ex caserma dei Vigili del Fuoco che ha un indirizzo biotecnologico in collaborazione anche con TLS. Partendo dalla formazione a TLS, a Biotecnopolo, poi all'industrializzazione e a quello che è tutti gli elementi di un distretto. Ecco, io vorrei su questo non si abbassasse la guardia perché con l'individuazione del Biotecnopolo non si è raggiunto l'obiettivo ma si è messa la pietra fondante che su cui non ci si costruiscono quei muri che poi saranno i muri di quel distretto che potrà dare anche un plus valore in questo ambito. È un ambito estremamente essenziale per il Paese Italia ma direi anche per il mondo vedendo tutto quello che succede, non dimenticandoci della pandemia che speriamo tutti di averci lasciato o di esserci lasciate alle spalle. Ultima domanda relativa alla politica della città che si prepara al voto di maggio, con la sua prima impressione della campagna elettorale è sicuramente una campagna elettorale vivace ma che deve ancora crescere nei suoi toni e nelle sue valutazioni programmatiche. Io da iscritto esponente del Partito Democratico sono molto contento che il mio partito possa appoggiare un candidato di grandissimo valore come Anna Ferretti e vorrei spendere, non ne ha bisogno, ma vorrei spendere due parole su Anna, una persona di grande esperienza, di grande determinazione che saprà qualizzare intorno a sé, così come ha fatto il Partito Democratico, tante altre forze e tante altre cittadine e cittadine perché ha quella necessaria esperienza di poter dire che ci sarà un governo di una persona che farà quello che dice. Purtroppo io voglio dire questo, parlando di politica è il mio ruolo e mi sarà consentito, troppo spesso in campagna elettorale si raccontano delle vicende che poi quando si va all'attuazione concreta subito se ne cambia idea, vedo il tema delle accise o il tema del 110, io ho fatto la campagna elettorale, non ho mai sentito dire dai partiti di centrodestra che sarebbe avvenuto sul 110 o sugli accise quello che è avvenuto, l'abbiamo fatto in commercio, l'abbiamo fatto nei vari settori del commercio, dell'artigianato, dell'industria, ecco io credo che innanzitutto ci debba essere dei comportamenti molto seri, la serietà sta anche nel poter far parlare le persone che poi devono decidere, Anna farà una campagna diretta, non per interposta persona, avrà la sua capacità e la sua determinazione che chi la conosce sa essere veramente ferma e importante, per cui io faccio un in bocca al gruppo a lei e di pari passo anche a tutti gli altri candidati e credo che comunque possa essere un momento per costruire il futuro della città a prescindere da quelli che poi saranno anche gli sviluppi nazionali. Senatore, la ringrazio per la sua disponibilità, per essere venuto qua a trovarci, speriamo ovviamente di riaverla al nostro ospite presto, ovviamente buon lavoro in particolare per nona commissione, io ringrazio tutti voi per l'attenzione che ci avete riservato e vi auguro ovviamente una buona continuazione con il programma di Canale del Toscano, arrivederci.